Eccoci, siamo con Andrea Boarini, autore del terzo gol della Rocca. Ciao Andrea. Ciao Gianfri. Allora, è il tuo primo gol, hai rotto il ghiaccio finalmente con la Rocca. Raccontaci un po' questo gol, com'è nato. E' molto felice di questo primo gol. Ringrazio lo staff e i giocatori che hanno sempre creduto in me e che mi fanno sentire a mio agio in ogni allenamento. E' molto felice. Il gol com'è nato? Ah, un'azione, un cross, un cross alto, secondo palo. Ho avuto il coraggio di tirare al volo e è nata bene. E' il coraggio degli incoscienti qualche volta. Ok, come ti stai trovando con la nuova squadra? Bene, sì, sì. Mi sono trovato molto bene, sono andato al primo giorno e continuiamo così. Ok, chiederai sicuramente adesso al mister di avere un po' più spazio. Dai, vediamo, sì. Ok, Andrea, ciao, grazie.